Il professor Sauro Gelichi è direttore degli scavi per l'Università Ca' Foscari di Venezia presso il sito delle antiche mura di Iesolo. Qual è l'esito dell'attività di scavo condotta nel 2023? Noi abbiamo continuato nel 2023 soprattutto ad indagare questo cimitero che si sviluppa nel sito di San Mauro tra il tardo VIII e il XII secolo, quindi è aumentato il campione di individui che abbiamo potuto scavare e quindi è aumentata anche la possibilità di approfondire sempre di più una serie di argomenti legati al complesso cimiteriale che è rappresentativo di una parte della comunità dell'antica Equilo, quindi insomma noi attraverso i morti possiamo tentare di ricostruire almeno in parte anche la storia dei vivi. Quindi questo mi pare un obiettivo che ci auguriamo di poter raggiungere e sarà sicuramente un obiettivo molto significativo per la storia di questo territorio, ma non solo di questo territorio, direi più in generale per la storia della laguna. Poi esistono casi anche specifici, abbiamo trovato questo individuo che era affetto da una grave malattia che era la osteocondrite, che è una malattia degenerativa, che riguarda le ossa, ha vissuto fino a 40 anni ma sicuramente in condizioni non particolarmente agevoli ed è interessante che questo individuo in quelle condizioni sia stato però in grado di poter sopravvivere all'interno della comunità. Questo significa che c'è stato un apporto anche della comunità sociale per aiutare appunto una persona che aveva sicuramente dei forti elementi portatori di handicap. Quindi insomma anche da questo punto di vista vediamo come questo caso è importantissimo sul piano clinico, perché l'unico caso conosciuto archeologicamente in Italia di questa malattia si traduca anche in una opportunità per fare luce su quelle che sono le dinamiche sociali all'interno di questa antica comunità.